Sono stati diversi, denunciati a polizia e carabinieri, gli episodi di borseggio che si sono verificati sabato al mercato di Intra. Una donna italiana residente a Verbania racconta di aver subito il furto del portafoglio e dei documenti, che ha prontamente chiesto in copia all'ufficio anagrafe, apprendendo che lo stesso è capitato ad altre persone. La polizia locale di Verbania sabato sera ha rinvenuto, al termine della giornata, le borse e uno zainetto. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Beba Steck House, a Ornavasso.